L'iniziativa di questa sera rappresenta il giusto riconoscimento ad uno spezzone che io reputo fondamentale dell'attività che svolgiamo come Riva Fere Congresso in campo congressuale. La presenza di questi ambessiatori, ossia la presenza di personalità trentine, particolarmente riconosciute per la loro professionalità, anche all'interno degli organi direttivi, di enti e di associazioni a livello nazionale ed internazionale, rappresenta per noi un punto di riferimento per tentare di portare a Trento eventi scientifici e associativi di indubbia importanza. Loro sono parte integrante di una rete di alleanze che per noi è fondamentale. Per quanto riguarda Riva del Garda, si è stesa, sono tre le location oggi degli eventi. E quindi questo accresce l'importanza degli ambasciatori. Noi abbiamo il tradizionale palazzo dei congressi con tutte le sue strutture, abbiamo ed è partita alla grande con più di 50 eventi, spiaggia degli olivi e da quest'anno, dal 2023, noi gestiamo questo magnifico posto che è il Task Forum, importante punto di incontro per eventi di carattere scientifico, aziendale ed associativo. E in questo senso il ruolo e la funzione degli ambasciatori è veramente fondamentale.